... c'è la punta hai visto buon marito? c'è un piccolo rumore fermi era meglio di prima qua ci sei bene, vai pure tranquillo tieniti un po' più a destra adesso non farti l'albero e poi chiudila appena poi chiudila intanto guardateci guarda ok, non posso dire perfetto c'è l'entrata qua, icone da destra allargati chiudi perfetto allargati appena poi chiudi anche questo stai un po' più largo per non farti gli alberi chiudi subito, chiudi semmi allargati anche qui ok, perfetto adesso qua esatto, bravissimo tieniti largo in cima vai 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 chiudi chiudi perfetto vai 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 tranquillo allargati appena appena poi chiudila 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 vai 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 merda cuore hai letto porco fatela bene l'alettro vai 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 a culo addio porco allargati appena appena chiudi qua vedi te perché sei quasi c***o vai un po' più dritto vai appena appena un po' più dritto vai 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 chiudila 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 un po' stretta nel senso per voi per noi è sicuramente più avvantaggiato più di più di più di più di più di più di più adesso qua bisogna che ti tieni tutto a sinistra e poi acceleri e lasciare andare il culo vai falla andare falla andare falla andare falla andare falla andare falla andare perfetto sinistra sinistra perfetto sei a sinistra dell'albero adesso sinistra se ti conviene poi informerci la prima però secondo me finiti a sinistra appena appena sinistra 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 acelera acelera vai vai guarda 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 troppo sembra un tempo guarda la film sei a tap se i chiedi un messo di ignoranza è da farla saltare piano 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 da non farti paletti ebbè